Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! No, non devi fare yoga lì, tu, bastardo, vieni qua! Vieni qua! Vieni, vieni, vieni! Sta arrivando, sta arrivando, giuro, sta arrivando! Vieni, dai, vieni, facciamo questo, vieni qua! Stai, facciamo questo, vieni qua! Piano, 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 risciando, fuori dalla casa. E nel frattempo sento la porta che fa un casino, come se la stessero provando a sfondarmi, spallate. Inizio ad andare a calcare se... Oh, che cazzo! Che cazzo! Ma cazzo che hai in mano! Il financio che hai fatto a 40 anni, Paolone, ricordati che per i porno la piattaforma è un'altra. Oddio! Allora, voglio voto, allenatore, allenatore, voto allenata e voto outfit. Perché così bisogno del voto? Non ho il voto, sono persona competitiva, questo passo dovido, lo salgo il mio partito. Vabbè! Ciao! Posso? Che dico, nevoti? Mi hai puzzato due outfit. Ma che fa le lami? Gira! Gira! Allenatore 8, allenata 6 e mezzo! Cos'è stato? Che è stato? Che c'è stato qua? Riesco a sentirli chiamarmi dal... Da... Da... E poi non dice cosa. Nooo! Perché è il perno, non è il percorso, non è il percorso. E poi non è il percorso. Oggi scusate, non c'è la massa. C'è la massa. Non c'è il tuo casino, aspetta Dai, ce l'abbiamo quasi fatta, bravo, bravo, ritiriamo, 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 ritiriamo oggi Aspetta, ce la facciamo, se la facciamo, se la facciamo A proposito, a proposito, raga, sapete che mal di gambe niente? Allora io ho fatto una live sportiva con Paolo, abbiamo fatto palestra, mi ha ammazzato La giorniera? Ups Dicevo, la... De più, ma stai imparando, non è importante sbagliare Brava, brava, culo Adesso aggiungiamo una cosa, indurisci di tutta, il culo e l'addome, devi essere una piccola, un piccolo legnetto Sii dura, sii tonica quando lo fai, e vedrai che avrai anche più equilibrio No, devi essere dura con i muscoli Vai, dura Oddio, Mario dorme nella mia stanza, come faccio? Per cantare orecchie, ma buttatelo fuori, ma che cazzo fate? Ma l'avete invitato a casa vostra? Ma siete pazzi? Adesso saprò dove abitate per sempre Che cazzo fate? Comunque, dicevo Tocca a cambiare casa subito, no ma... Abbiamo fatto un chilometrino Soppiamo e camminiamo un po' Scendi pure, scendi pure che cammina sul... Occhio Ok Cammina, walk, walk Se vuoi, brava, allargare le braccia Quella ha pesato 8 kg Ti fatta male? Perché io non ho prima La zierena Perchè ti comporti diverso in life? Ououuuu 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 A faccia di me bella Qui, l'importante è girare le mani rivolte verso l'alto Prendo il cellulare in mano Oh, yeah, mmm, yeah, ah, mmm, yeah, ah, yeah, mmm, yeah No, yoga con Eren Aspetta, 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 no, non è finito, non è finito Quando è passiva? Mi sono rilassati Allora, aspetta, 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 lo giuro Aspetta, 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 rimani questo, sì, aggiungi questo Sei così? Ok, vai Cioè, stanzionario psioas, alzati, facciamo questo È un po' simile a un affondo Tipo quando mi abbassavo, che ne so, per allacciarmi le scarpe Mi girava tutta la testa E quindi inizialmente ci metti tanto a quello Però guarda che del resto, a me hanno spaccato la faccia Oh, tribuno cannone Vai, avanti qui Venti tu? Stavo da qua Vai Dove non acerco te o non? Tutto e te E poi con te Alla, questo vale venticuno Venti due Tipo il culo, indurisci il culo Tutto ha un fascino erbi Ok, stai così No, eh no Appena lo fai bene muori No E' morto Eren Se non fai altri 15 secondi Vieni in un lato e ti rapisce il cane No, no, no 16 secondi Vai Scendi giù col culo Indurisci 12 11 10 9 10 11 12 14 15 15 15 16 21 21 22 22 23 22 23 23 23 24 24 25 26 26 26 26 27 27 27 28 28 29 29 29 30 30 29 29 30 30 32 31 35 35